il soldatino di piombo c'era una volta un bambino che aveva una stanza piena di giocattoli durante la notte questi parlavano tra di loro anche se non potevano muoversi fu così che fra un soldatino di piombo che aveva perso una gamba in battaglia una ballerina anche lei di metallo nacque un grande amore un giorno il bambino prese il soldatino lo posò sul davanzale della finestra e disse anche se sei senza una gamba puoi fare la vedetta poi dispose gli altri soldatini sul tavolo una corrente d'aria fredda entrò dalla finestra e il bambino corse a chiuderla ma si dimenticò del soldatino che precipitò due ragazzi che passavano di là trovarono il soldatino cominciò a piovere a dirotto e le strade diventarono presto simili a torrenti con l'acqua che scorreva veloce a un tratto i due ragazzi videro una barchetta di carta in balia della corrente mettiamoci sopra il soldatino così diventerà un marinaio disse uno dei ragazzi l'acqua scorreva vorticosa verso lo scarico di una fogna e la barchetta vi fu trascinata dentro nel canale sotterraneo con l'acqua alta e fangosa i topi della fogna videro passare l'insolito passeggero sull'imbarcazione di carta le acque della fogna finivano nel fiume e qui fra alte onde arrivò la barchetta ormai tutta bagnata il soldatino capì che la sua fine era vicina fu così che il soldatino si inabissò nelle acque profonde fra i mille pensieri che gli passavano per la mente ce n'era uno più forte degli altri non rivedrò mai più la mia dolce ballerina ma un grosso pesce lo inghiottì e cambiò di nuovo il suo destino fortuna volle che quel pesce fosse più tardi pescato e portato al mercato qui il caso volle che la madre del bambino a cui era appartenuto il soldatino capitasse proprio davanti al banco su cui il grosso pesce era esposto questo andrebbe bene per gli invitati che avrò stasera si disse la donna il pesce finì in cucina e quando la madre lo aprì per pulirlo esclamò ma questo è il soldatino di mio figlio è proprio il mio disse il bambino che riconobbe il soldatino dalla gamba mancante chissà come ha fatto a finire nella pancia di quel pesce poverino chissà quante ne ha passate da quando è caduto dalla finestra disse e poi lo posò sulla mensola del camino dove da tempo aveva sistemato la ballerina un miracoloso destino aveva di nuovo riunito i due innamorati felice di essere vicini durante la notte poterono finalmente raccontarsi tutto ciò che era successo dopo la loro separazione ma la sorte riservava loro altre sorprese un violento colpo d'aria alzò la tenda della finestra che colpì la ballerina facendola precipitare nel fuoco del camino il soldatino di piombo disperato nel vedere la sua compagna cadere verso le fiamme cercò dondolandosi di smuovere il piedistallo che lo teneva fermo il soldatino continuò ad ondolarsi finché anche lui riuscì a cadere nel fuoco qui grazie al calore che aveva ammorbidito il piombo o per l'amore che nutriva verso la ballerina riuscì a muovere il braccio per avvicinarla a sé più tardi il fuoco si spense e la mattina dopo il bambino trovò i due innamorati su un unico piedistallo che il fuoco aveva plasmato per loro a forma di cuore fine